Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale, classico, consueto e fondamentale, diciamo così, della mia, della mia libreria. Allora, cari signori, torniamo a parlare di questo libro di Francesco Filippi, ovvero sia Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo. Allora, libro che ha fatto incazzare più di uno dei miei commentatori, libro che a certi miei commentatori non piace, perché? Perché smonta, dati alla mano, certe bufale che girano a proposito del fascismo. Le famose cose buone fatte dal fascismo, vabbè, parliamone. Allora, qualche tempo fa, qualche tempo fa, mi era stato chiesto di parlare delle politiche demografiche del fascismo. Allora, come avevo già spiegato, abbondantemente venne vietata qualsiasi forma di controllo delle nascite, le donne vennero disincentivate a lavorare, le donne vennero ridotte al solo, puro e semplice ruolo di fattrici, di mogli e madri dei futuri nuovi italiani che il regime avrebbe spedito in guerra ai quattro angoli del mondo. Eh, questo era il programma demografico, in poche parole, del fascismo. Non sono certo io a dirlo, non è certo il professor Filippi a dirlo, lo dimostrano le leggi fasciste, lo dimostra la mentalità fascista, lo dimostrano semplicemente gli atti del fascismo durante il ventennio a proposito delle donne, a proposito delle politiche demografiche. Ma sentiamo un po' che cosa ci dice il professor Filippi. Allora, Mussolini permise agli italiani di fare più figli e fece crescere la popolazione italiana. Allora, è un'affermazione che sembra sostenuta dai censimenti della popolazione residente in Italia, che passò dai 38.449.000 del 1921 ai 42.994.000 del 1936, ultimo censimento disponibile per il periodo fascista. E i dati, segnatevi questa cosa, i dati sono rilevati in popolazione e società, struttura ed evoluzione della popolazione ai censimenti serie storiche.istat.it. Il sito dell'Istat, Istat che è stata fondata da Mussolini negli anni venti. Quindi questi dati vengono dal fascismo, ok? Quindi state a sentire bene. La dinamica di crescita della popolazione fu però dovuta non alle maggiori possibilità di fare figli da parte degli italiani o alle politiche pro natalità del regime, ma semplicemente dal fatto che emigrare durante il fascismo per gli italiani divenne più difficile. Se nel 1923 furono 389.000 gli italiani espatriati, alle soglie della seconda guerra mondiale erano 29.000 nel 1939, sempre, dato sempre proveniente da serie storiche.istat.it, dati ufficiali del fascismo, ok? Allora, un crollo dovuto alla crisi internazionale che fece chiudere le frontiere ai paesi di destinazione, perché logicamente le mete tradizionali dell'immigrazione italiana, Francia, Inghilterra, Stati Uniti d'America, paesi dell'America Latina, eccetera, chiusero le frontiere per via della crisi economica. E anche alle politiche di disincentivo all'immigrazione imposte dal regime che vedeva nell'andare a cercare fortuna all'estero una vergogna nazionale. Allora, il tasso effettivo di fertilità degli italiani, in realtà, durante il fascismo, a causa delle privazioni e della crisi, si contrasse dai 30,54 bambini nati ogni 1.000 abitanti nel 1921 ai 22,40 registrati nel 1936. Allora, 1.000 abitanti, ok? Nel 1921 ogni 1.000 abitanti nel 1936 ogni 1.000 abitanti nascevano 22 bambini. Allora, non è il professor Filippi che si inventa queste cose per denigrare il fascismo, no? È l'Istat. Queste cose, questi dati, li trovate, ripeto, in Popolazione e Società, Struttura ed Evoluzione della Popolazione ai censimenti. Seriestoriche.istat.it. Il sito dell'Istat, il sito dell'Istat che è pubblicamente consultabile, l'Istat, l'Istituto Centrale di Statistica che rientra tra le cose buone fatte dal fascismo e che spiega in maniera estremamente chiara come la politica, l'idea del numero come potenza fosse semplicemente campata in aria, perché logicamente dopo la crisi di Wall Street del 1929 la gente aveva smesso di emigrare, perché? Perché i paesi dove l'emigrazione italiana era più forte, leggi, Inghilterra, Francia, paesi dell'America Latina, Stati Uniti d'America, Canada, eccetera, questi paesi si trovarono nell'impossibilità fisica di ricevere nuovi emigranti, perché? Perché c'era la crisi economica, loro chiusero le frontiere e gli italiani non potevano più emigrare e il regime che vedeva l'emigrazione, la fuga dall'Italia come un disonore, come un motivo di vergogna, come un motivo di scorno e di sdoro, fece anche delle politiche contro l'emigrazione. E ripeto, se la popolazione italiana dal 1921 al 1936, ultimo censimento disponibile del regime fascista, passò dai 38 milioni e mezzo ai quasi 43 milioni del 1936, ripeto, non fu tanto per le politiche demografiche del fascismo, ma semplicemente perché emigrare era diventato quasi impossibile. E quelle braccia, quelle persone, quei disperati che non potevano più cercare fortuna all'estero, perché la crisi economica del 1929, la politica del regime che vedeva l'emigrazione come un disonore, cioè la dimostrazione che l'Italia non era quel paradiso che Mussolini dipingeva, che era un posto dove si faceva la fame. E ripeto, ripeto, i dati dell'Istat, i dati ufficiali dell'Istat, l'Istat, l'istituto centrale di statistica fondato da Mussolini nel 1927, porca miseria, scusate se ve lo dico, parla di un tasso effettivo di fertilità degli italiani che si contrasse a causa delle privazioni e della crisi dai 30,54 bambini nati ogni mille abitanti nel 1921 a 22,40 registrati nel 1936. Perché? Perché nonostante le tante belle idee, le tante belle parole, la propaganda, la roboante, la reiterata, la stordante, asfissiante propaganda del regime, la realtà era che l'Italia era un paese disperatamente povero, disperatamente arretrato, con un'economia essenzialmente agricola di sussistenza, e ve lo posso garantire perché, insomma, sono figlio e nipote di contadini, sono agricoltore io stesso, porca miseria, ho ben presente i racconti dei miei nonni su come si viveva nelle campagne italiane fino alla fine degli anni 50. Insomma, signori, non stiamo tanto a girarci intorno, i dati dell'Istituto centrale di statistica parlano chiaro, gli stessi dati dei censimenti voluti dal fascismo parlano chiaro. Durante il regime, cioè durante il ventennio, la popolazione italiana aumentò solo perché praticamente divenne impossibile emigrare. Da sempre l'Italia è terra di emigrati, da sempre l'Italia ha esportato braccia e cervelli, da sempre l'Italia non è stata in grado di garantire al proprio popolo la sussistenza e l'esistenza dignitosa. E i motivi sono tanti, tantissimi sono. E non tutti sono certo colpa del fascismo, non tutti sono colpa dell'italietà liberale. La colpa è anche e soprattutto di una certa mentalità italiosa che vede le persone coraggiose, meritevoli e capaci costrette a fuggire all'estero perché qua in Italia fa comodo tenerci i mediocri. Il fascismo che aveva bisogno, che aveva l'idea del numero come potenza, rese quasi impossibile l'emigrazione. Ma l'emigrazione non si arrestò praticamente mai, cioè si passò, come ho già detto, si passò dalle oltre 300.000 persone all'anno che emigravano a non più di 29-30.000. Ma non smisero mai di emigrare gli italiani, anche durante il fascismo. E i dati dell'Istat sulla natalità sono tragicamente reali. L'Istituto Centrale di Statistica certificava che in Italia durante il ventennio ci fu un crollo delle nascite. Da 30,54 bambini a 22,40 bambini nati ogni mille abitanti. Io sono un asino in matematica, sono un somaro integrale in matematica, non ho mai preso una sufficienza in matematica quando andavo a scuola. Ma porca miseria! 30 è un pochino più alto di 22. Ok? I dati statistici che io sinceramente, cioè come dire, invito tutti a cercare sul sito delle serie storiche dell'Istat, è disponibile. Anche io mi sono preso la briga di darsi un'occhiata e sono tutto sommato abbastanza comprensibili. Cioè parliamo dei dati ufficiali dell'Istat, parliamo dei dati ufficiali stessi del fascismo. Chiunque può consultare le serie storiche dell'Istat e basta un qualsiasi studente universitario che abbia a che fare con la statistica per certificare questa cosa. Non serve essere professori, ci arriva persino un ignorante come me. Le politiche demografiche fasciste furono un fallimento. La popolazione aumentò solo perché non potevano emigrare e il tasso di natalità crollò dai 30 nati ogni 1000 abitanti nel 1921 ai 22 nati ogni 1000 abitanti nel 1936. Me lo sono inventato io? No. Se lo ha inventato il professor Francesco Filippi direi proprio di no. È scritto nei dati dell'Istat, nei dati dei censimenti fatti dal regime durante il ventennio. Eh che cacchio, scusate se ve lo dico, ma ragionateci sopra queste cose, pensateci sopra queste cose. Io sono stato accusato di fare propaganda comunista di ripetere memorie e libretti dell'Arci. Questo libro scritto dal professor Filippi è stato definito un manualetto comunista che veicola le più becere voci antifasciste. Ho detto che il professor Filippi sia antifascista, credo sia fuori discussione, ma i dati, signori, i dati che riferisce sono i dati ufficiali dell'Istat del ventennio, l'Istat, l'istituto centrale di statistica fondato dai fascisti nel 1927, che certifica dati alla mano il clamoroso fallimento delle politiche demografiche italiane. La fame, la denutrizione, le proibitive condizioni di sopravvivenza e l'economia agricola di sussistenza a cui era ridotta l'Italia avevano causato una contrazione del numero dei nati. Ripeto, 30 nati ogni mille abitanti nel 1926, 22 nati ogni mille abitanti nel 1936. Li sapete fare i conti? Ripeto, persino un somaro in matematica come me è riuscito a fare sti conti. E la popolazione italiana aumentò solo perché divenne impossibile emigrare, impossibile o quasi emigrare. Poco da dire e poco da fare. Tutto qua. Quindi, cari signori, io spero di essere stato sufficientemente chiaro. Come sempre vi ringrazio per l'attenzione. Come sempre vi dico che aspetto i vostri commenti, le vostre considerazioni, le vostre opinioni a proposito di quello che ho detto e a proposito delle ricerche che vi invito a fare sul sito dell'Istat, serie storiche dell'Istat. Guardate lì, divertitevi a spulciare negli archivi dell'Istat del ventennio. Vi divertirete e scoprirete cose molto interessanti. Tutto qua. Quindi, cari signori, ripeto, aspetto i vostri commenti come sempre, aspetto le vostre considerazioni e come sempre, di nuovo, arrivederci al mio prossimo video. Ciao!